Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Famme Chimica! Io sono Ricky, il mio amichetto Sandro qui e oggi vi parleremo del mondo in ultra HD delle lenti a contatto perché certe volte, caro alle, è importante vederci chiaro. Andiamo con la sigla! Le lenti a contatto ci possono sembrare un'invenzione molto recente ed avvenieristica. In realtà però le prime testimonianze sull'utilizzo di questa tecnologia risalgono addirittura alla fine del XIX secolo. Nel tardo 800 però le lenti a contatto erano fatte di vetro ed erano plasmate sugli occhi di conigli o cadaveri. E per quanto ci possa sembrare allettante portare addosso una cosa che è stata negli occhi di un morto, la scienza si è prodigata per trovare una soluzione un po' più pratica e meno schifosa. Le lenti a contatto di vetro infatti erano molto scomode e molto rigide ovviamente. Tra gli anni 30 e gli anni 40 la rivoluzione della plastica coinvolse anche le lenti a contatto che venivano fatte in polimetilmetacrilato, PMMA per gli amici Plexiglas. Il PMMA è una plastica ottenuta per polimerizzazione dell'estere metilmetacrilato ed è un materiale che rispetto al vetro presenta minor peso e migliore trasparenza. Infatti è proprio questo il motivo per cui inizialmente era stato pensato come sostituto del vetro nei finestrini degli aerei da guerra. Le sue proprietà chimico-fisiche però hanno portato notevoli miglioramenti anche nel settore delle lenti a contatto che aumentarono notevolmente le prestazioni ma presentavano ancora due problemi principali. Il primo, le lenti in PMMA erano ancora rigide. Il secondo, il polimetilmetacrilato non permette il passaggio dell'ossigeno e quindi non era possibile portare queste lenti per tempi prolungati. Questo nuovo tipo di lenti rigide è lo stato dell'arte fino a circa il 1950 quando in cecoslovacchia vengono sviluppate delle nuove lenti a contatto fatte di polidrossietilmetacrilato. Questo nuovo materiale è ciò che in chimica si definisce un idrogel ossia una sostanza colloidale in cui le catene polimeriche, tutte le molecole di questa plastica sono disperse in acqua. Questo porta a due vantaggi principali. Il primo è che le lenti risultano considerevolmente più morbide, quindi meno rigide. Il secondo è che il polidrossietilmetacrilato è permeabile all'ossigeno il che permette che le lenti a contatto possano essere indossate anche per tempi più lunghi. La struttura degli idrogel è composta da una rete di catene polimeriche incrociate aventi carattere idrofilico, il che significa semplicemente che stanno molto bene in acqua. Infatti le molecole di acqua che circondano il polimero vanno a formare dei legami idrogeno con gli atomi molto elettronegativi di ossigeno presenti sulla catena e questa caratteristica fa sì che gli idrogel possano assorbire una massa di acqua incredibilmente superiore alla loro massa secca, circa di un centinaio di volte. Nel corso degli anni sono state apportate diverse migliorie a queste lenti morbide volte soprattutto a modificare la catena polimerica per renderla sempre più permeabile all'ossigeno però senza ottenere dei grandi risultati. fino all'avvento dei polisilossani, ossia idrogel al silicone che non sono altro che polimeri contenenti silicio che hanno un'elevatissima permeabilità all'ossigeno pensate addirittura superiore a quella dell'acqua stessa. Questo che cosa permette? Permette di poter indossare le lenti a contatto in modo continuativo senza avere problemi di areazione alla cornea. Ma citando i Pink Floyd c'è sempre un Dark Side of the Moon che ti rovina i piani. Infatti i polisilossani hanno due differenze principali rispetto al polidrossietilmetacrilato. La prima è che sono decisamente più facili da pronunciare. La seconda è che a differenza appunto del polidrossietilmetacrilato sono idrofobici ovvero non stanno per niente bene in acqua. Infatti indossando delle lenti in polisilossano così a secco queste si attaccherebbero all'occhio in un modo diciamo non troppo piacevole per cui per poterle indossare queste lenti devono essere trattate in modo tale che la parte interna a contatto con l'occhio sia idrofilica. Le nuove generazioni invece di polisilossani sono progettate in modo da essere direttamente idrofiliche. Questo è quanto per oggi un video un po' più corto del solito. Sì ma non troppo in realtà. Forse forse l'ultimo fatto su questa lavagna dell'anno. Sì potrebbe essere l'ultimo sulle lightboard. No dai forse ce ne sarà qualcun altro. Adesso vediamo un po' come ci stiamo organizzando qui. Magari da Londra riusciamo a trovare uno schermino magari un po' più piccolo più familiar diciamo senza tutta questa impalcatura. Esatto. Se volete vedere l'impalcatura dall'altra prospettiva mandateci tanti like tante foto tante richieste e vi facciamo vedere il backstage di Fammi Chimica. Che roba patetica. Comunque abbiamo lasciato le fonti in descrizione e ci vediamo la prossima. Al solito. Sono depresso da questo arrivo. Ciao. Ciao.